L'offerlines, come dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, ha messo a sceme coloro che hanno la responsabilità di gestire le aziende e gli ha dato un sentiero da seguire, gli ha dato degli spunti, gli ha dato degli items, come si dice per essere moderni, gli ha dato dei punti elenco da sviluppare e da portare avanti. Sono le grandi aziende italiane e gli amministratori delegati delle aziende italiane che stanno seguendo questo tipo di percorso. Gli ha messi qua, di fronte, al Palazzo del Governo, a raccontare che cosa succede, perché qualche volta coloro che stanno seduti nei banchi qua vicini perdono un po' il contatto con la realtà. Questo serve sia For Life, a mettere delle persone che raccontano che cosa succede quotidianamente dentro le aziende e per le aziende e con le persone che utilizzano i prodotti delle aziende, direttamente in contatto con quelli che fanno le leggi affinché questi prodotti e queste aziende possano ovviamente portare avanti il benessere per l'Italia.